ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un altro simpatico episodio dedicato ai vostri orologi noi i vostri segnatempo quei pezzi di ferro che avete al polso e che vi danno tanta soddisfazione così a voi come a me e secoli dei secoli amen oggi voglio ringraziare prima di tutto francesco un bambino un bambino che ha che mi segue e che ha realizzato per la scuola una presentazione in powerpoint con tutte le spiegazioni degli orologi meccanico al quarto le complicazioni tutta una serie di spiegazioni per un compito fatto a scuola e che ha voluto poi mandarmelo per farmi vedere come ha fatto grazie francesco bravo continua così può essere anche un incentivo questo bambino qua poi per proseguire nella passione degli orologi insomma si è già appassionato ha fatto un compito in powerpoint tutto dedicato agli orologi e tanta roba come partecipare alla nostra trasmissione come dice frassica lo sapete no inviate il video bla 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 oggi vi voglio mostrare l'orologio del giorno che è questo simpatico brightling cronoma orologio con 40 mm di diametro cassa il calibro è netta 28 93 o equivalente insomma un calibro di di fornitura che non non fa in modo che questo orologio non mi piaccia proprio mi piace tantissimo perché poi c'è questo bracciale qua no rullo rullo però il nome invece è brightling che è proprio quasi alla tedesca no brightling vedete che qua non brightling è dritto no invece rullo rullo è più morbido va bene questo è giusto una piccola lezione di lingue perché ogni tanto va fatta no perché mi seguono anche i pignoloni e quindi ebbene la barra spaziatrice lì indice pronto fuoco con il primo video e speriamo che dio ce la mandi buona come diceva rocco si freddi davide questo è garcia detto vacheron costantin ecco che vaga sempre alla ricerca di crocchette io sono massimiliano a 14 anni il cane io sono massimiliano e c'è anche l'eugenia bravo ti presento la mia collezione più che collezione sono logico comprato nel percorso della mia vita è anche ereditato bravo ne ho una quindicina vado di corsa allora questo è quello di mio nonno è un nonno da mio nonno e cos'è è un lorenz purtroppo il quadrante è rovinato con dei segni non so chi è che gli ha fatto sopra e disegnato i minuti hanno inciso i minuti non so se è stato un orologio io o mio nonno non lo so placato oro un lorenz a carica manuale non conviene a farlo stampare poi passiamo all'orologio di mio padre che usava sempre e io sbavavo per questo seiko 5 speed timer lo usava per lui faceva il cuoco in cucina andava a pescare negli scogli c'è pieno di segni graffi ma l'ho fatto mettere a posto adesso funziona perfettamente è un reperto ricordo un ricordo certo ok il mio primo orologio regalato ai tempi della comunione cos'è princeps cronografo carica manuale manuale il mio primo orologio comprato con i soldini nuovo diciamo perché poi ne ho presi altri ai mercatini questo proprio l'ho comprato nuovo però i primissimi automatico è un bulova potevi anche risparmiare insomma non è che a me bulova mi dica tanto purtroppo ai tempi non conoscevo bene gli orologi io bulova pensavo fosse chissà che poi mi sono appassionato con i giapponesi vabbè pensavo bulova fosse chissà che bulova è chissà che bulova è un gran bel marchio abbastanza commerciale nel senso che insomma anche loro tirano a vendere senza fare salti mortali di complicazioni o di calibri particolari lì dentro c'è il miota 8000 no poi oddio troppo tv risparmiare con quel buco sul quadrante no che ci fa vedere il bilanciere come ci fa vedere open heart si dice risparmiabile no certo che se vai su questi qua però ci sono anche altri orologi bulova l'oceanographer no il loro diver cavoli con l'epo bello è quasi iconico mi viene da dire oppure bulova senza andare nel vintage rimaniamo sui moderni il bulova quello militare ce ne sono un sacco non mi vengono nemmeno a mente ma ce ne sono un sacco di rogi bulova interessanti e come marchio è interessante anche lui quindi non sminuirlo non è che lo ha sminuito poi se ti sei appassionato i giapponesi un altro discorso preferisci i giapponesi e ci sta ognuno preferisce un po quello che vuole e mi sono buttato sui seiko ho preso questo seiko 5 usato su un mercatino che devo dire che è uno dei più precisi che ho semplice con i numeri arabi che diventano che sono fluorescenti di notte questo è un seiko 5 automatico poi sul mercatino ho trovato un altro seiko un altro seiko non si vede non so se si vede tenuto perfetto carino anche questo mi piace molto elegante sempre seiko però stavolta sono andato su un quarzo mi piaceva questo orologio qua l'ho trovato su ebay è il primissimo accumulatore diciamo proprio il primo 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 con l'accumulatore è un kinetic è sempre di quarto primo 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 mi sono preso anche questo citizen citizen alticron praticamente con l'altimetro è il primo citizen citizen penso che sia un pro master si con l'altimetro tutti pro master sempre sul vintage cos'è dal ma preso anche questo qui dal mercatino l'ho fatto rimettere a posto due volte perché usando lo si era rotta la carica due volte l'ho fatto mettere a posto bravo mi piace ma simpatico un digitale originale marca sconosciuta cioè sconosciuta sparita svizzera ma si ma cosa ce ne frega poi ho un sempre nei mercatini un renis movimento zenith tony questo non so sarà anni 50 movimento zenith sei più esperto no 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 non sono esperto io renis non ho mai sentito dire movimento zenith un chicca anche se è un po piccolino dovrebbe essere un 28 o 27 e mezzo questo seiko s degli anni 50 non conosco sai mi piaceva non so mi intrigava preso anche questo qua sul mercatino siamo sicuri che sia un vero non falso poi un diver vintage gmt tanivan a carica manuale pirana questo qui è il tanivan pirana scusa pirana si detto piragna i diver a me mi piacciono parecchio anzi ne ho pochi ne ho uno che uso tutti i giorni per andare anche nell'orto poi facevo le gare con le moto d'acqua lo usavo questo citizen citizen bravo lo usavo dappertutto purtroppo al quarzo però è indistruttibile ma che brutto di tutto e di più mamma mia però volevo un diver vero allora la mia compagna mi ha regalato questo ah il maco orient maco 1 uno vedi l'ho trovato praticamente no praticamente nuovo in un negozio di orologi nuovo di zecca ma a un prezzaccio beh l'ho fatto bene c'aveva anche gli altri orient i kamasu e la rai così però mi piaceva questo qui eh il maco 1 con questo riflesso blu che ora non si vede perché vabbè sì sì non siamo alla luce del sole quel pulsantino ti piace il pulsantino particolare mi piaceva l'ho preso bravo questo è il mio orologio praticamente che uso tutti i giorni quando non vado a fare lavori da urto diciamo questo mi piace niente poi ho ereditato dal suocero questo zenith che ho fatto rimettere a posto zenith e poi questo anche questo longines la cipolla orologi da tasca anche questo longines l'ho ereditato dal suocero e ho ereditato anche sempre dal suocero cosa? questo che forse salterà fuori un top è Ternamatic contichi bellino dai top Ternamatic contichi diamo un top era di mio suocero l'ho ereditato io che è? questa è una bella chiap insomma sappiamo tutti il contichi la storia questo deve essere uno dei primi non è il primissimo perché aveva mi sembra i dial triangolari il primo non mi ricordo però col quadrante blu è carino c'è anche col quadrante bianco l'ho visto in giro questo è tutto va bene ti saluto Davide e spero di essere al raduno il 12 di maggio ciao del prossimo anno però ormai va bene dai c'è tutta una serie di orologi sconosciuti semi sconosciuti ma anche quelli che poi sono conosciuti fatico a capire se sono magari mi ha fatto vedere un Seiko S lì a me non lo so io siccome non sono un intenditore di Seiko non sono un intenditore di niente ben che meno di Seiko cioè non so dirti perché la scritta Seiko è così normale senza nemmeno avere quei font particolari che utilizza Seiko non lo so non sono in grado di dirti è un accrocchion o è bello o è buono o no quindi prendo per buono quello che mi dici te poi gli altri invece tutti quelli di marchi scomparsi si ha un senso metterli lì però a un certo punto poi uno dice vabbè bellissimo l'ultimo Eterna è bellissimo specie se è appartenuto al tuo suocero quindi dovresti essere anche sicuro della bontà dei componenti degli elementi che compongono l'orologio il quadriante le sfere tutto un minimo di sicurezza dovresti avercela e il Maco il Maco 1 con quella simpatica pulsantino a ore 2 che serve per cambiare il giorno bello l'hai trovato NOS praticamente strano particolare in un negozio ce l'aveva è già difficile trovarli nei negozi gli Orient lui ce l'aveva NOS bravo ha fatto un bel chiappetto anche lì sei promosso poi i due orologi da tasca l'onjines non si dice l'onjines cioè i francesi mettono un sacco di lettere dopo l'ultima consonante che non si dicono cosa le mettono a fare mettono un sacco di lettere l'onjines e s non si dice bordeaux a ux non si dice bordeaux bordeaux ci metti la bordeaux abito sono fatti così comunque si è promosso dai belli orologini simpatico il cagnolino e via così ciao Davide sono Sofia Davidano vorrei mostrarti la collezione mia e del mio compagno iniziamo con il mio Hamilton Kaki bello che monta un movimento ETA H10 con una riserva di carica di 80 ore brava è un 38 mm un orologio che utilizzo tutti i giorni e che mi ha colpito per il colore del quadrante che sembra in madreperla addirittura proseguo con un Seiko 5 anche questo un 38 mm con movimento 4R36 un orologio acquistato per la particolarità del colore del quadrante che uso tutti i giorni con movimento a vista eh sì 4R36 tutti i giorni questo tutti i giorni quell'altro siamo ora alle sperimentazioni prototipo Lamberti un pezzo unico con un diametro cassa 44 mm ed un movimento Seiko NH35 ovviamente non mio perché è molto molto grande ah va bene avverti segue questo massiccio Militum in bronzo a cui ho montato un cinturino nato per renderlo ancora più militare ora purtroppo questi Militum qua come Hublast come ci sono un sacco di marchietti che utilizzano orologi da catalogo se ti prendi questo simpatico orologio qua e fai la ricerca per immagini su google troverai che ci sono altri 3 4-5 marchi che fanno l'orologio uguale identico a questo ma con cambiato il logo quindi sono orologi che ordini che potrei ordinare anch'io facendosi scrivere sopra cecchini sì va bene va bene però noi cerchiamo di possedere orologi che ci dicano qualcosa abblano che ci dicano qualcosa che ci trasmettono qualcosa cioè perlomeno per chi c'è dietro per come ci comporta chi c'è dietro cosa fa chi c'è dietro tutta una serie di cose come ad esempio quando sono andato a trovare un boat ho scoperto che dietro c'è tutto un un ambaradan che mi ha lasciato sorpreso non me l'aspettavo io pensavo pensavo potevo anche supporre che arrivassero gli orologi già da catalogo fatti così gli metti cinturino e poi li spedisci invece no c'è tutta un'altra roba dietro le casse le fanno fare in Italia sono casse anche ben difficili da fare con tutti quei tiranti con lo zaffiro di lato hanno gli orologi l'assemblatore il quadrante insomma è un marchio come si deve poi il signor Fontana Italo Fontana che insomma c'è dietro qualcosa anche se non mi piacciono gli orologi magari non tutti in questo caso qua invece non so c'è dietro uno che ordina gli orologi ci fa mettere sopra un logo e poi li vende capito? è un 42 mm di diametro cassa e monta un seco NH35 Hamilton secondo Hamilton della collezione questa volta un Kaki Aviation Converter che monta lo stesso movimento del precedente H10 su base ETA 28-24 una riserva di carica di 80 ore ma brava che sei però sempre nell'ambito della sperimentazione un Lamberti crono modello Safari diametro cassa 41 mm carica manuale di un bellissimo color salvia tenue un altro crono in questo caso un Eco Noitra modello cortina carica manuale diametro cassa 40 mm ghiera in ceramica e movimento sellita SV 510 ci piace questo bravo siamo i Diver con un Oris Aquis con un quadrante color ciliegia stesso colore di un mio rossetto ed è per questo che è stato acquistato diametro cassa 41 e mezzo impermeabilità 300 metri movimento Otis 733 su base sellita SV 200 un bellissimo pezzo di collezione ora pensate le signorine come sono affabili e affascinanti comprare l'orologio perché il quadrante dell'orologio color ciliegia cherry si intona con il colore del rossetto queste si che sono motivazioni che ci spingono no io se dovessi scegliere un orologio in base al colore di come mi vesto cosa infatti scelgo neri sempre nero però io ho una maglietta che cambia la scritta i jeans cargo che cambiano il colore da nero a blu da blu a nero magari un po' cachi basta cosa scelgo in base al colore dei quadrante scelgo in base all'appeal il diver che utilizzo di più molto versatile un Mido Ocean Star Tribute perfetto per il mio polso 40 mm di diametro cassa niente bellissimo orologio bellissimo in occasione della recente fiera a Tortona bravo l'acquisto di questo vertigo in hippocampus sul quale il mio compagno ha montato un bellissimo bracciale a cartuccera unico e particolare a cartuccera no ed ecco il mio preferito questo Tudor Black Bay 58 da 39 mm un orologio che mi hanno regalato in occasione della mia laurea brava bellissimo bel regalo mio compagno invidioso del regalo della laurea si è acquistato questo Tudor Black Bay 41 mm 41 con calibro di manifattura Tudor MT 5602 certificato COSC un bellissimo orologio non c'è nient'altro da aggiungere direi che siamo pari brava però volevo dire che insomma te all'inizio hai detto ora presento i miei orologi e quelli del mio compagno pensavo fosse più una scusa per presentare quelli del tuo compagno in realtà i tuoi orologi sono di signori orologi scelti con cognizione di causa e anche con know-how sai i calibri che ci sono dentro sai cosa c'è dietro al marchio insomma brava non so cosa dirti nel senso che pensavo magari avessi due o tre orologini a quarzo così giusto per no invece belli orologi cambiamo genere in ricordo del nonno paterno bello questo Villervetta Incaflex con un diametro cassa 35 mm degli anni 60 che monta un calibro ETA 11-32 11-32 sempre l'ascito del nonno questo Otis Crono in oro una marca svizzera scomparsa con la crisi del quarzo che monta un movimento Landeron 51 e un diametro cassa 38 mm ora questo qua se noi guardiamo sul sul sottocontatore ad ore 3 lo vedete che ha degli indici più lunghi probabilmente quello lì sono quelli per calcolare gli scatti telefonici gli scatti quando c'erano i telefoni a gettone ti mettevi il gettone durava tot minuti 3 minuti quindi ti davi la via il cronografo e quando eri nel telefono sapevi che dovevi mettere un altro gettone ecco scattano i 3 minuti un altro gettone ecco lì un altro diver è un tissot tissot si star power matic 80 bello impermeabile fino a 300 metri yes un orologio robusto molto versatile che abbiamo utilizzato entrambi nelle nostre vacanze estive insieme quest'estate pensavo di montarci un cinturino giallo brava così fate gli scintille facciamo un salto indietro nel tempo con questo Breitling Cronomat Yachting degli anni 90 un orologio che ha un suo fascino unico con un calibro Valjoux 77,50 su baseta 39 mm di diametro molto particolare accenti incamiciati in oro passiamo ora ai tedeschi Zinn 556 che bello un orologio compatto ed elegante lo definirei un dress watch con una cassa da 39 mm ma anche un orologio da tutti i giorni certo robustissimo il Zinn ci piace seguiamo ora con Mule Glassute ma devo dirti che avete degli orologi veramente belli e particolari cioè andare a scegliere il Breitling Cronomat poi il Zinn bello teutonico poi Mule Glassute uguale è come Zinn sono sulla falsa riga questo qua quanto è 100 atmosfere questo qua l'ho recensito anch'io 100 atmosfere oh con questo qua ci va in una fossa delle mariane dove ci va però avete fatto delle scelte veramente particolari e che approvo approvo non conta niente ma io approvo SAR che sta per search and rescue search and rescue un orologio estremamente tecnico con i suoi mille metri di impermeabilità in dotazione ai corpi di soccorso in mare tedeschi brava hai imparato bravo poi l'occasione del nostro anniversario ci siamo fatti un regalo a vicenda bravi top e top ci siamo regalati questi tudor black bay pro questo mio da 39 millimetri questo del mio compagno da 41 millimetri ci servivano dei gmt per i nostri viaggi di lavoro ci servivano e quindi sono orologi che usiamo molto spesso sono bellissimi e a volte io rubo quello del mio fidanzato da 41 millimetri perché mi sta molto bene ebbè bravi dai fate i regalini gonfia per concludere questo Breitling Cold Navitimer Football degli anni 90 minchia bello un'edizione limitata prodotto per gli arbitri con un contatore ad ore 12 che segna il tempo per le partite di calcio eh sì 45 bravo ci piace molto bello molto bello sì ma è come le tue unghie ed un Breitling Navitimer Cosmonaut automatico con il quadrante che segna le 24 ore pensato per le missioni spaziali questo era l'ultimo orologio della collezione in attesa di espanderla ulteriormente spero che il video ti sia piaciuto e ti auguro una buona giornata anche a te carissima è brava la nostra amica la nostra ragazzuola qua che ci ha fatto vedere proprio veramente con cognizione di causa ripeto tutta una serie di signori orologi che mi sono piaciuti tutti non escludo neppure uno addirittura anche dei vintage dei lasciti no del del nonno o del suo cio ma non mi ricordo del babbo bravi 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 quale è l'orologio che mi ha colpito di più di tutta questa simpatica collezione andiamo a vedere secondo veloce se c'è qualcosa che mi può perché se no non mi ricordo più ah sì anche i microbrand anche i microbrand si è andata a pescare bravo ti so sì dai niente i due brightling navi timer quelli lì mi sono piaciuti molto e però mi hanno sorpreso mi è sorpreso ripeto la scelta del zin e del mule glassute due orologi tecnici sportivi oserei dire quasi tool watch che insomma non è da tutti scegliere vista anche la disponibilità economica perché brightling tudor quindi uno dice ma io voglio comprare gli orologi costosi quelli che al polso li riconoscono tutti no ti prendi un zin non te lo riconosce nessuno a meno che tra noi appassionati ed è quello che conta di più no sei da qualche parte un appassionato ti riconosce lo zin la soddisfazione è lì non che te lo riconosce colui che non capisce niente che se vede rolex dice se invece vede altri marchi rimane così con la mente è vuota come prima è sempre vuota c'è la prossimo video ciao davide buongiorno ciao buongiorno volevo mostrarti la mia collezione ho iniziato da poco meno di due anni due anni dai purtroppo la mia collezione è da poveracci ma volevo mostrarti i miei orologi volevo sapere che cosa in come potevo migliorare e che cosa poter prendere sempre allo budget ma comunque da intenditori ripeto io non capisco molto di calibri e di orologi è solo da poco che ho iniziato questa passione e volevo sapere eh sì ma stringiamo l'opinione sui orologi questo qui un Caribbean Joe è stato uno dei primi che ho comprato io vivo in Inghilterra Caribbean Joe si trova molto diciamo che questo qui è il primo Ciofeca Alert l'ho presi per via del suo cinturino mi serviva qualcosa da mettere con un abito e devo dire la verità mi mi piacque molto il colore ma come si fa c'è un orologio per il colore del cinturino che si abbina con l'abito cioè qua siamo a livelli peggiori del quadrante che si abbina con il rossetto cioè scegli un orologio in base al colore del cinturino perché e ti compri un cinturino qualsiasi a parte e te lo metti su un bello orologio che ti piace non che te lo compri che non ti piace perché c'è il cinturino che si abbina vabbè iniziamo male qua ragazzi cioè non mi fate alterare così su decisi di prenderlo un low budget come la maggior parte degli orologi che che possiedo va bene dopodiché un'altra ciofeca eh no volevo un orologio in legno mi piaceva questo colore rossiccio del suo cinturino cinturino anche qua ho preso quest'altro orologio con cinturino metallo e legno mamma mia chissà cos'è non so se esistono degli orologi pregiati di questo materiale se sì vorrei sapere pure che tipologie di orologi ci sono in commercio ma io non lo so non me ne intendo di orologi di legno sinceramente magari Pinocchio chiedi a Pinocchio lui lo sa se ne intendo lui li indossa non ne ho idea se esiste cosa ne so il legno pregiato qual è il tech magari ci sono in tech in noce di in noce di bambù ma cosa ne so cioè l'ultima cosa che mi interessa al mondo sono gli orologi in legno non ho nemmeno idea di quanto possono durare di quali possano essere i punti negativi ora sono qua magari ti posso dire marciscono cosa ne so si deteriorano non lo so perché non è vero quindi non lo so che fine faranno questi orologi qua però proprio il concetto di un orologio in legno come un orologio in plastica cosa c'è di male un orologio in plastica niente però a borro un orologio in legno a borro utilizziamo i metalli i metalli sono nati l'acciaio l'acciaio inox l'oro il platino il titanio anche se non mi piace la ceramica va benissimo il legno ragazzi l'orologio in legno un altro ciofeca un diesel questo è molto molto vecchio ho dovuto cambiare il cinturino questo qui è stato il mio regalo di cresima ah e allora lo possiedo ancora perché ci sono legato ma certo non lo indosso molto però lo amo per le sue forme molto particolari amo molto gli orologi che vanno sul quadrato ho capito ma ci sta un sector sector expander questo orologio mi è stato regalato da mio padre lo trovo molto sportivo vabbè lo adoro lo indosso molto spesso non so che che punto di vista avete voi con i sector non lo so cioè sicuramente facevano anche orologi validi ora non credo ora si va a parlare di proprio di disinteresse totale per l'orologeria da parte di sector cioè fanno orologi per buttare in pasto alla massa e venderli e fare soldi senza un minimo di interesse anche io ho avuto un sector negli anni 90 ce l'ho avuto anche io un sector non mi ricordo nemmeno come era fatto questo qua si vede chiaramente che va a riprendere i cavalieri del del cronomat un po' in stile brightling sarà di quegli anni lì dimmi te perché non lo so se è moderno questo qua o è di quegli anni io riesco a capirlo mi sembra anche di plastica vederlo così è di plastica non lo so vabbè che punto cioè sono orologi evitabili ti serve un orologio per andare a zappare va bene ti puoi prendere anche un sector così come io per esempio mi sono preso per andare a zappare un timex addirittura con la cassa in resina che è di plastica il quarzo ci stanno questi orologi qua quindi ma non è che ci si può stare a perdere del tempo a disquisire sul sector hai capito la considerazione che abbiamo la domanda penso che sia un'ottima marca mi piace molto e allora basta tienilo cosa vuoi da me il prossimo orologio è stato purtroppo mio non è venuto a mancare da poco questo qui è l'orologio che indossava lui quotidianamente e ha un valore molto speciale per me certo credo che questo qui sia l'orologio con più valore affettivo che io posseggo non ha importanza il valore economico certo per me questo orologio è il top è il top va bene ci credo sarebbe lo stesso per me un orologio italiano capita capita bravo che non ho visto di questi orologi nel tuo canale ma perché sono marchi da centro commerciale più che da centro commerciale da profumeria quando ti entri in profumeria ci sono i vari profumi dopo barba bla 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 poi come gadget ci sono gli orologi capital messi lì in festina messi lì un orologio da centro commerciale da profumeria che non vanno a a modificare la storia dell'orologeria ma nemmeno la storia di chi lo possiede cioè evitabili orologi evitabili da capita così e cosa ne pensi dei capital penso che sia molto ben fatto ben rifinito mi piace molto low budget questi numeri che risaltano mi fanno impazzire molto elegante io credo sia veramente veramente ben fatto ottima manifattura ottimo cinturino colori stupendi molto elegante va bene contento te prossimo ciofe color ancora ma cosa ciofeca qua fosse come dicevo prima mi piacciono molto i quadranti quadrati ho capito però questo qua l'ho preso in quanto mi piaceva il colore praticamente un finto oro ottonato ottonato mi piaceva molto mi piaceva molto il colore ho capito perciò ho deciso di prenderlo perché mi stava molto bene sul polso ha una cassa molto grande ti piaceva il colore va bene sul mio polso vabbè so che dirti un everyday watch cos'è oh ho preso un casio hai fatto bene adoro questo casio lo chiamano casio royal penso sia per via del del film di james bond anche di queste non ne ho visti molto sul tuo canale però devo dire la verità io lo adoro lo indosso molto spesso e ha la funzionalità di cambiare gli orari rispetto ho capito ma ora non sai che mi sa spiegare tutte le funzioni di un orologio al quarto un orologio elettronico fai presto lo programmi da dentro il microchip e ti può dire anche a qualsiasi cosa a che ora devi andare accesso per dire te lo potrebbe dire è elettronica cosa ci vuole non ne vedi tanti sul canale perché probabilmente la mia opinione da umile da umile host di questo canale è che alle persone piacciono gli orologi meccanici quindi non è che mi fanno vedere spesso gli orologi digitali se a te ti piace l'orologio digitale con tutti questi quadrantini tutti questi bei numerini tutte queste belle funzioni siamo tutti contenti però non lamentarti se agli altri non piacciono o non interessano non è che non piacciono te lo vedo nel posto ti dico carino ti dico però non mi interessa come orologio digitale così al quarzo 10 year battery attenzione perché la batteria è la tua nemica la batteria è in fin garda la meccanica ti viene incontro la meccanica ti dà una mano la batteria è tua nemica ricordate la posizione geografica è per me è stupendo può mantenere due orari uno sulla parte superiore e uno sulla parte inferiore hai la possibilità di cambiare gli orari rispetto della posizione geografica dove ti trovi siccome a me piace molto viaggiare questo qui è un orologio stupendo e allora basta e lo porto sempre con me nei viaggi anche perché ha un valore irrisorio ma di una bellezza unica per me alzo le mani è l'ultimo orologio che ho acquistato questo qui è un citizen oh ma che eco drive però eco drive con colorazione pepsi sono andato per comprare un orologio volevo un eco drive non volevo altre ciofeche a batteria e praticamente era in offerta mi sono innamorato dei colori e soprattutto dello sfondo e perciò senza esitare l'ho comprato trovo molto elegante ha un quadrante enorme siccome è un polso molto grande sta bene sul mio polso mi sembra con 45 mm lo adoro lo adoro ultimo ingresso ancora non non l'ho indossato molto però spero di poterlo indossare sempre di più bene o male e con questo è tutto volevo solo chiederti secondo te siccome sono un poveraccio su che casa e che tipologia di orologi potrei puntare da poter da poter avere in collezione volevo qualcosa di elegante o comunque sportivo io stavo vedendo il khaki field che vedo che parecchio degli utenti hanno e mi piace molto come un everyday watch però volevo pure qualcosina di low budget magari sui massimo 400 euro che comunque possa entrare nella mia collezione vabbè ti ringrazio ti auguro una buona giornata buona visione del canale grazie grazie buona visione del canale a me ascoltami non se ne salva uno di quegli orologi non se ne salva uno traccio feche poi tutti al quarzo mi pareva che fossero tutti al quarzo ora non ricordo bene tutti al quarzo tutti al quarzo infatti poi alla fine quando volevi un consiglio era un pochino sgomento perché ho detto ma cosa gli consiglio a questo qua e mi era venuto in mente il casio edifice quello al quarzo simpatico sottile bello quello lì quello lì poteva essere poi invece ti sei buttato sul khaki field se andiamo su automatico oppure c'è anche la versione manuale mi sono rimasto sorpreso ma come ora fai questo salto così a pie pari in avanti meno male erano tutti tutti i orologi dimenticabili quelli che mi hai fatto vedere a parte il fatto che possono essere legati a dei ricordi affettivi per cui ha senso tenerli quello della cresima della comunione quello del nonno per l'amor del cielo però tanti te li sei comprati te così a membro di segugio diciamo la verità membro di segugio ora il khaki field 400 euro non lo so magari lo trovi usato a 400 il khaki field se lo avevo 400 euro nuovi un po' scontati cosa si possono prendere di orologi meccanici automatici manuali tanti se ne possono prendere perché te lo vuoi un po' elegante e sportivo ora così su due piedi non mi viene in mente però in casa orient in casa in seiko un seiko presagio seiko presagio di quelli 60s style quelli con la luneta con i numeri secondo me quello lì non sbagli con poco con poco più di 400 lo riesci a trovare un seiko presagio con quello lì secondo me diventa il tuo roggio preferito da utilizzare tutti i giorni altrimenti sempre su quella cifra lì si può andare anche in casa citizen lo zuiosa il classico c'erano tutti ma le vedi anche te gli orologi passano di qua cerca di farti un'idea da solo su quali possono essere gli orologi che ti piacciono ne vedi uno che ti piace dici bello questo perché così capita a tutti la cosa è l'impatto fisico come con le donne la prima cosa è l'impatto fisico non è che dici voglio sapere se è laureata prima guardi l'impatto fisico qua negli orologi è uguale tu bello mi piace allora lo prendi lo studi ti informi e poi scopri sempre che c'è qualcosa che non va perché va a finire così scopri che c'è un punto debole che ti può rimanere qua a quel punto lì devi decidere te se quel punto debole è insormontabile e metterlo da parte può essere anche il prezzo oppure oh nonostante il punto debole io quell'orologio lì lo voglio e ci vai sopra e lo prendi però devi farlo in autonomia cioè guarda tutti i video che passano qua li vedi gli orologi no tra quelli che recensisco quelli che faccio vedere il negozio quelli che faccio vedere dagli amici del canale i fatti un'idea scegli ne uno cacchi field va bene se su quello non ci piove prossimo video saluto a tutti gli amici del canale un salutone sono Cesare da Bologna oh Cesare ciao ciao volevo mostrarti la mia collezione di orologi vai allora partirei da questo Citizen ProMaster del 2009 EcoDrive carino 42 mm addirittura bello Samurai Seiko Samurai 43 mm bello con quella quadrante così altro Seiko Seiko 5 questo qua lo conosciamo benissimo è simpatico Zenit stellina calibro 126 35 mm del 1952 beh è bello strano passiamo a un altro Zenit è questo Zenit sporto calibro 25 52 37 mm 37 mm bello inizio anni 70 eh ho con la cassa cuscino così dove voi che siamo anche questo passiamo a questo Zodiac laminato oro laminato automatico 35 mm anni 70 anche quello altro di casa Zodiac uguale a questo Zodiac cronometro King Line 36.000 alternanze la Zodiac fece una collaborazione per arrivare a questo meccanismo con Doxa Girard Perego Eberhard e Favre Leuba non lo sapevo i due Zodiac sono rimanenze di magazzino quindi Zodiac incassava un calibro 36.000 alternanze orarie realizzato da tutto questo consorzio io lo prendo per buono quello che mi stai dicendo perché non è che sono ferrato su tutto quindi è la prima volta che sento dire di questo calibro qua avrà un nome questo calibro bisogna che mi informi un pochino che studio questo calibro qua tutto un consorzio di casa svizzera che ha creato il calibro 36.000 alternanze passiamo a questo Longin Spirit da 40 mm come il mio bello assai ci piace oh che bello questo Longin Flagship alta frequenza 28.800 alternanze calibro 4.28 del 1900 fine anni 60 la misura di questo orologio è 3 cm per 3 cm un quadratino un cioccolatino ora ti mostro due quarzi vai uno è uno è questo cartier tank non che è il top tieni eh beh l'altro è questo omega constellation constellation del 1998 35 mm mentre il cartier è del 2018 è nuovo praticamente sono due orologi che condivido con la mia signora bravo passiamo a un altro omega questo qua era un omega del mio papà che ho ritrovato poco tempo fa è è del 1947 48 veniva chiamato omega jumbo per la sua grandezza che allora era un fuori misura è un 38 mm calibro 2.65 referenza 25.05 sicuramente ristampato eh usava con una discusa eh sì infatti c'è la la scritta omega è veramente stortina eh così come quegli indici che sono molto distanti dal bordo quadrante non vorrei che fosse anche reincassato addirittura no però c'è sta tutto nella vita secondino molto molto al centro va bene però insomma si era eh un lascito per l'amor del cielo creta facilità eh l'orologio era uno solo e doveva durare ma lo porto con grandissima soddisfazione ma bravo si sa altro soddisfazione omega è questo omega è questo omega sea master del 1969 ha un calibro 750 ed è un 35 mm bellissimo bello e per concludere ma non per ultimo bellino uno dei miei primi acquisti l'ho comprato nel 1995 nuovo è un omega speed master con calibro 1151 monta un eta 77 51 un orologio bellissimo signori ho terminato quella che è la mia collezione io vi ringrazio ti ringrazio Davide a te se vorrei mostrarla agli amici e un saluto a tutti ciao 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 una bella collezione perché va dagli orologi moderni come il samurai oppure cos'era il secondo non me lo ricordo più il samurai e il seiko 5 ad esempio che è dei giorni nostri poi tutta una serie di vintage veramente interessanti per poi arrivare ai neo vintage degli anni fino agli anni 90 come quell'ultimo speed master lì che se non mi sbaglio aveva il contatore dei minuti coassiali alla sfera cronografica cioè i minuti cronografici vengono letti con quella sfera fatta a aeroplano a freccia che è coassiale a quella dei secondi cronografici interessante e carino poi l'hai comprato te nel 95 per l'amore del cielo ha proprio senso quando un orologio invecchia con te comincia a avere quasi 30 anni quell'orologio lì pensa un po' bravo mi è piaciuta sia l'esposizione pacata tranquilla senza troppi fronzoli che gli orologi in sé e per sé compresi quegli zenit a volte ho trovato un po' delle sono rimasto un pochino così sulle mie perché lo zenit stellina io l'ho visto abbastanza ristampato come quadrante con quel cavolo di stella veramente la scritta zenit così visibile in evidenza vabbè come quello l'altro omega che è stato un l'ascito invece interessantissimi due zogliac che secondo me sono originali al 100% come quadrante degli anni 70 con il soleil è anche un po' difficile e l'onjin quello cioccolatone flagship flagship si dice alta frequenza 28.800 consideravano già alta frequenza si considera già alta frequenza quindi da non confondersi HF con i 36.000 dell'ultracron comunque dai sei promossissimo te l'appoggio dai prossimo video ciao Davide sono Davide D'Alecco e questo che ti mando è il mio terzo video per mostrarti il proseguo della mia collezione di orologi bravo guardiamo un'occhiatina qua quello lì dietro chi sarebbe quel mostricciatore io non lo so lì per lì mi sembrava quello di di Saw della saga dei film di Saw ma non mi sembra per nulla non so chi sia però vedo la copertina del disco di Black Sabbath e questo è già tanta roba perché significa che la musica è quella giusta e poi le scatole di Rolex Omega e Brightling più l'orologino là che è uno Zenith è la cassaforte del tempo va bene vediamo cosa c'è da dirci partiamo subito con questo Kinsley Sport 2 degli anni 90 ovviamente un bel quarzone a batteria ora ultimamente qualcuno mi ha presentato un Kinsley automatico e io gli ho dato il ciofecale qualcuno nei commenti sotto ha scritto no ma Kinsley è una marca che bla 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 poi se vuoi andate a vedere sul sito web di Kinsley ci sono orologi così per tutte le fogie per tutte le le sagome proprio di quelle da catalogo alcuni con il calibro Miota all'interno la maggior parte con i calibri T Y cinesi hai capito veramente anche con il turbiono open art sono veramente in basso come livello ragazzi ora questo qua dagli anni 90 al quarzo anni 90 vabbè questo qua si vede che c'è il braciale tipo il Tagoyer Link usavano così in quegli anni lì anni 90 magari era anche decente non lo so ma io non la prendo in considerazione non riesco a tenere in considerazione Kinsley come marchio oggi da acquistare da consigliare compratelo che bello no preso ad un mercatino per 20 euro mi piaceva molto questa tipologia di bracciale a maglie piene e come si anni 90 questa lente magnificatrice che secondo me ha fatto il suo un bel orologino per 20 euro casa orologia Kins che tra l'altro è anche abbastanza famosa ora chi lo sa se c'è ancora e niente l'ho preso 20 euro ho fatto un bel affarone eh si me li mangiavo anzi in pizza questo vostro anfibio che bel bracciale orologio russo senza data ovviamente cassa tutta satinata questa bellissima ghiera azzurra azzurra e niente mi piaceva molto questo cintorino tutto satinato in maglie piene questa bellissima chiusura col sommozzatore che c'è anche sul quadrante e anche questo bellissimo fondello a vista qua si legge la B sta per bellissimo o bruttissimo o Bostock fondello a vista e questa è estensione anche per la muta che mai visto io su un orologio Vostock tanta roba di chiusura tanta roba scusami di estensione e niente un orologio molto carino che fa il suo lavoro e che ha anche uno scarto diciamo tutto sommato buono un bel più cinque al giorno ecco questo qua è il classico esempio di orologio che io veramente consiglierei come everyday watch da battaglia vedo persone che dicono che sono come il G-Shock oppure come c'ho io il Timex al Quartz oppure delle altre un bel vostro così con 100 e qualcosa euro si compra sono fatti benino hanno la loro storia il loro perché il loro heritage secondo me l'impermeabilità c'è magari intanto ci sono quelli vecchi che avevano un problema un po' di ruggine sulla corona sul canotto però secondo me sono consigliabilissimi questo bellissimo Omega Seamaster acqua a terra nuovo di trinca c'ha due giorni 38 mm che dire niente c'è poco un orologio elegante ma sportivo precisissimo molto bello tutti criticano il bracciale ma a me piace a me piace piace molto anche a me questo bellissimo fondello a vista che mostra il calibro Omega Master Coaxial 8008 e niente che dire questo orologio mi piace molto e penso che diventerà il mio everyday watch everyday watch da 8000 euro bravo rolex su mariner ghiera verde mk1 12610 lv ultima referenza modello starbucks non kermit che cambia la lunette che questa qua è un verde diciamo pastello molto più caldo rispetto quello che esce adesso che è quello un po' diciamo con la ghiera un po' colore kermit ecco non mi veniva la parola e niente che dire un orologio di qualità visto e rivisto però mi piaceva sono rimasto in lista tre anni e l'attesa ne ha valsa la pena e sono rimasto molto soddisfatto dell'acquisto di questo orologino poi ed ultimo questo bellissimo tudor black bay 41 ultimo modello con certificazione metas e bracciale jubilee a dire il vero bellissimo una qualità pazzesca secondo me qua tudor ha fatto un bellissimo lavoro tra cassa bracciale chiusura perché comunque c'è la chiusura t-fit che adesso non si vede secondo me è un orologio bellissimo il più bello secondo me a mio avviso del modello black bay anche secondo me niente che dire che dire finiscono qua grazie Davide dimmi cosa pensi dei miei orologi e al quarto video a breve magari ciao Davide va bene va bene ciao ciao che dire eh che dire che dire sono belli orologi come ora mi viene a mente quanto detesto i nickname inventati per i rolex starbucks kermit batman ma andate a quel paese ma non smettetela con questi nickname stupidi inventati chiamateli con loro Roma no niente c'è preso tre belli orologi l'acquaterra l'acquaterra l'everyday watch lo vorrebbero tutti l'acquaterra come everyday watch poi il rolex submariner che è un classico hai aspettato tre anni va bene contento te contenti tutti facciamo un applauso per la tua pazienza e poi il black bay ghiera rossa da 41 nuovo di quel modello nuovo metas che è più sottile è più un pochino più bello è più bello del ghiera rossa precedente secondo me il black bay 41 ghiera rossa quello che ho sempre detto è il tudor che comprerei se dovessi mai comprare un tudor penso che prenderei quello lì dovrei provarlo al polso perché non l'ho ancora mai provato perché non è che bravo ha voglia di provarlo perché al momento non ho intenzione di comprarlo però se dovessi un tudor quello lì ghiera rossa che almeno è un po' è un po' differente ghiera rossa nessuno te lo può scambiare per un rolex a volte a volte tudor fa il gmt blu e rosso poi fa il black bay nero che questo qua ha la sua bella ghiera rossa che non c'era nessuno è più bello è più bello è un po' più classico anche il primo il primo black bay che è uscito c'era la ghiera rossa il primo è uscito con l'ETA con il calibro ETA era bello sottile poi hanno fatto la versione con il calibro di manifattura era un mattoncino e ora hanno fatto questo qua con il calibro di manifattura certificato METAS però l'hanno fatto più sottile finalmente l'hanno azzeccato praticamente è per tutta la storia del black bay che viaggia a questo ghiera rossa è abbastanza iconico per questo che secondo me ha senso di esistere bravo sei promosso tre top cosa ti vuoi dire aspettiamo il quarto aspettiamo il quarto così ci dirai che dire ragazzi io direi di aver detto tutto non è che posso stare qui tutto il giorno a guardare i vostri video devo guardare anche i video dei gattini su instagram e loro sono lì che aspettano miau miau attendono io vado lì li guardo mi rilasso e passo un po' di tempo un po' di tempo a fare niente vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuti i video il video il presentatore e l'orologio del giorno e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love mi rilasso Musica